Noi siamo vissuti in una vita precedente e ora siamo qui per amarci ancora. Certo, ma se anche io non fossi Don Edoardo, sono convinto che tu sei la donna della mia vita. Ti amo e ti amerò per sempre. Ma non basta questo. È importante che tu mi creda, perché solo così capiremo cosa ci è successo. Nel nostro passato c'è la spiegazione del presente che stiamo vivendo. Ma il mio amore non ha bisogno di spiegazioni, Diana. Anche Lucrezia è tornata in vita. È Irene. Ed è qui. Qui per separarci. Niente e nessuno riuscirà mai a separarmi da te. Ma noi dobbiamo difendere il nostro amore. E ti giuro che lo difenderò, Diana. Lotterò con te contro tutto e tutti. Voglio darti una prova. Che quello che ti sto dicendo è tutto vero. Per la prima volta cercherò di utilizzare i miei poteri volontariamente. Amore, non ha importanza chi sei. Tu sei la donna che io amo. Tu devi conoscere la verità. E adesso guarda. Non ha letto. no 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 mi ama no 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 Grazie.